Direzione dei segreti del Chiostro, che si trova? Dentro il monastero di Santa Caterina Guarda che bello! Pistate e cioccolato! Il cannolo siciliano, una cialda fritta croccante, ripieno di ricotta di pecora, granella di pistacchio e cioccolato Il segreti del Chiostro è un progetto dentro al monastero di Santa Caterina, che è dove originariamente, dall'inizio del 1500, le monache di clausura preparavano i dolci che poi vendevano alla ruota Le monache mettevano i dolci nella ruota e poi le mettevano i soldi e poi mangiavano Poi? Mangiavano! Ma chi mangiava? Chi pagava? Qui abbiamo i panini di Santa Caterina, che sono pasta di mandorle con un cuore pieno di... oddio, conserva di cedro Aguri G! Festeggia con sta minna! Quattro panini di Santa Caterina, una minna e un cannolo, 9 euro A presto!